Con l'ingegner Carriero, patron del Regina Isabella, un momento importante con il Ministro del Turismo per provare a risollevare una stagione turistica che a tratti sembra già compromessa. No, 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 no. Anzi, su questo diamo subito un'indicazione. Le prenotazioni per la stagione turistica primaverile e estiva già ci sono e già sembrano assolutamente in linea di tendenza analoghe a quelle dell'anno scorso che furono eccellenti. Quello che è compromesso è stata questa riapertura di Capodanno che purtroppo molti come il nostro albergo avevano programmato e invece hanno dovuto rinunciare. L'incontro con il Ministro è stato sicuramente eccellente, nel senso che intanto dimostra, e questa forse è la cosa più importante, guardate, al di là di quello che poi è il risultato, dimostra un'attenzione sua, personale, del Ministro nei confronti della nostra isola. Questa è la cosa da cui partire. Dopodiché ha portato un'idea che secondo me è giusta, ossia ripartiamo dal rilancio dell'immagine dell'isola. Quello che è successo ha offuscato l'immagine dell'isola all'estero, perché all'esterno e all'estero anche, perché purtroppo ha viaggiato ovunque. È venuta fuori l'immagine di un'isola devastata da fango e purtroppo anche devastata dal cemento a causa del tanto abusivismo di cui si è continuamente parlato. Semplicemente non è così. facciamolo vedere tramite una campagna di immagini che mettano al centro le bellezze naturali della nostra isola. Mi sembra un'idea eccellente e la condivido in pieno. Le avrà fatto piacere anche il fatto che il Ministro abbia sottolineato che i protagonisti stessi di questa campagna possiamo essere tutti noi che a Ischia ci viviamo. Sì, esatto. Sicuramente il Ministro ha detto questo e mi ha fatto piacere, ma c'è anche da dire che il Ministro l'ha detto perché, a mio modo di vedere, propone una campagna tramite social media e questo richiede che tutti quanti noi aderiamo a questa campagna singolarmente ed è giusto perché questo è il tipo di campagna che oggi funziona. Molto più della, con tutto il rispetto per i quotidiani o la carta stampata, ma molto più di quello che riesce a veicolare come pubblicità una pubblicità su una tradizionale pagina di giornale, oggi sui social media riescono a viaggiare enormemente, più veloce e più lontano. Quindi ecco perché dobbiamo essere tutti quanti protagonisti.